Finisce 1-0 tra Liserni e Lafermana, un match partito con grande sprint ma che a conti fatti, almeno nel primo tempo, non ha regalato grandi emozioni. Per la cronaca registriamo al terzo minuto di gioco Omiccioli che scalda i guantoni di Maggi su punizione, il numero uno di casa, non si lascia intimorire. Poi più nulla fino al diciassettesimo quando Mancino, con un cross, regala una bella occasione a Scimò che però va alto sulla traversa. Un minuto dopo è Panico a sprecare la palla gol, andando al lato di un soffio. Lafermana la rivediamo al 41esimo, su corner battuto da Omiccioli, Valdes di testa sbaglia tutto, mandando tra le mani di Maggi. A reti inviolate, dunque, si va negli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa e andiamo dritti al tredicesimo minuto, con un tiro centrale di Bossa che Maggi intercetta con un tuffo. Siamo al minuto 23, quello della svolta, c'è un passaggio in aria per Cantoro che di piatto infila l'angolino della rete giallo-blu, al cospetto di una difesa semi-imbambolata ed è 1-0. Al 31esimo, ancora brivido, stavolta di stampo marchigiano, c'è un cross di Misin per Traini, ma Maggi fa un vero miracolo, deviando in angolo. Al 39esimo, ecco la tegola per i Bianco Celesti. Panico protesta per un fallo laterale concesso alla fermana dal direttore di gara Giampiero Miele della sezione di Nola, che manda il capitano anzitempo sotto la doccia. Non accadrà più nulla fino alla fine dell'incontro, eccetto questo tentativo al 95esimo da parte degli ospiti, che la difesa bianco-celeste riesce a sventare, non senza qualche difficoltà. Vittoria importante e sofferta per Lisernia, a caccia di punti per la salvezza, che ha giocato con assenze importanti come Ruggeri e Pepe. La fermana, che ha costruito la squadra per qualcosa di più della salvezza in questo campionato, ha di certo qualcosa da rivedere.